Proseguirà fino a giovedì pomeriggio lo screening di massa riservato ai residenti dei comuni di Vallefoglia, Montelabate, Petriano, Tavullia e Monte Calvo in Foglia al Palaviltri di Montecchio. Nei primi quattro giorni di test sono state sottoposte a tampone rapido quasi 3.200 persone, da cui sono attualmente emersi 40 casi positivi. Rispetto alle due fasi precedenti in cui si è registrata un'affluenza complessiva alla fine più o meno intorno al 20% con una percentuale di soggetti positivi inferiore all'1, 0,8-0,9% considerando che è una popolazione totalmente asintomatica. In questa fase che interessa i comuni di Vallefoglia, Gradara e specularmente Terre Roverischi, Orciane e Monte Felcino c'è un lieve calo di affluenza. La percentuale di positivi sostanzialmente è la stessa ma l'affluenza rispetto alle altre sedi è un pochino in calo. Nella fattispecie di Vallefoglia questo è parzialmente spiegabile con il fatto che ci sono molte grandi aziende nelle quali avvengono già periodicamente screening dei lavoratori. Sono aziende con un'alta popolazione lavorativa quindi questo probabilmente ha sottratto affluenza al sito di Vallefoglia. L'attività di screening al Palavitri è stata estesa anche al pomeriggio della giornata di giovedì per permettere una maggiore affluenza di popolazione e del comparto scuola. Studenti, professori e personale scolastico potranno sottoporsi al tampone rapido anche se residenti in comuni diversi. Come ricordato anche dai consiglieri regionali di centrodestra presenti questa mattina sul posto. Siamo molto contenti, è un provvedimento molto importante che permette anche alle categorie dei giovani, del personale scolastico e del personale ATA di avere una garanzia in più per il ritorno a scuola. Quindi molto bene, complimenti e ringraziamo gli operatori sanitari e tutti i dipendenti dell'area vasta che stanno portando avanti un'organizzazione assolutamente ottimale. Quindi non possiamo che essere qui per cercare di sostenere questo progetto ulteriore a salvaguarda dei nostri giovani, delle nostre famiglie e del personale scolastico per riprendere quanto prima e tornare alla normalità. È importante che i nostri studenti partecipino a questa grande operazione per tornare a scuola in maniera sicura. Quindi siamo qui come consiglieri di maggioranza eletti nella provincia di Pedalurbino a testimonianza dell'importanza di questa operazione affinché tutti i cittadini continuino a partecipare nei punti predisposti dall'area vasta. L'invito, come hanno detto i miei colleghi, è quello in particolar modo rivolto agli studenti, al personale docente ATA, il prima possibile di venire a fare i tamponi rapidi per riaprire le scuole in sicurezza. Ci tenevamo invito sicuramente a tutta la cittadinanza ad aderire. Rispondo al sindaco Ricci che non ci sono cittadini di serie A e di serie B, pertanto tutti i comuni piccoli che ancora non hanno avuto questa possibilità dello screening rapido, del test rapido, è importante che si faccia. Quindi l'area vasta 1 e io rivolgo un grande ringraziamento a tutti gli operatori che è impegnato a continuare lo screening di massa.